Il mondo scoprirai! Molte cose imparerai! Flippi! Venite qui, palline! Guardate quante palline colorate! Wow! E sapete cos'altro è colorato? Già! Questa barchetta blu e gialla! Le barche a vela sono spinte dal vento e io soffio come se fossi il vento! Guardate! Che forte! E guardate qui, c'è un'altra barchetta! Questa invece è di colore rosso e giallo! Wow! Ok! Wow! Vedete laggiù? Ci sono delle uova sotto l'acqua! Le barche e le palline galleggiano sull'acqua, ma... Guardate laggiù! Le vedete? Ci sono delle uova verdi, gialle, arancioni e viola! Penso che dovremmo andare sott'acqua e prendere quelle uova! Ehi! Ci faremo aiutare da questo signore, ok? Cominciamo! 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 Ok! Stiamo per andare sott'acqua! Si tuffa! Si tuffa! Wii! Ehi! Wiii! C'è! 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 non si può trattenere il respiro molto a lungo bene, andiamo di nuovo e prendiamo l'uovo verde ok yeee! guardate! ha preso l'uovo verde wow! ok uovo verde? ok, adesso prendiamo l'uovo giallo pronti? bene, ecco che vado salto dalla barchetta guardate! abbiamo preso l'uovo giallo! wow! ottimo lavoro! bene! ancora due uova! oh! devo tirare su le maniche! si stanno bagnando troppo! perfetto! ancora due uova! andiamo! andiamo! un bel respiro! un bel respiro! perfetto! perfetto! si va! guardate! abbiamo preso l'uovo arancione! yeee! perfetto! l'ultimo uovo! wow! ancora un uovo! ed è l'uovo viola! oh! sarà divertente! bene! sei pronto muratore? sei pronto? io sono pronto! ok! si parte! trattieni il respiro! wow! 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 ottimo lavoro! preso! guardate! è l'uovo viola! viola! Wow! È stato divertente ripescare quelle uova dall'acqua! Wow! E guardate, le barchette e tutte le palline colorate! Wow! Oh no! Le barche affondano! Ok, le prendo io! Bene! Ok! Oh, guardate! Perfetto! Ho un retino! Penso che dovremmo togliere tutte queste palline dalla vasca! Pronti? Ah sì! Quella lì! Gialla! Arancione! Rosa! Viola! Wow! Mi rosa! Blu! E verde! Altre quattro! Rosso e blu! Verde e rosa! Verde! Arancione! Verde! Arancione blu! Rosa! E ultima, ma non meno importante! Viola! Blippi! Blippi! Seguimi e vedrai! Ti divertirai! Blippi! Blippi! Il mondo scoprirai! Molte cose imparerai! Blippi! Adesso metto la faccia qui dentro! E potrete vedere come sembro quando sono sott'acqua! Blippi! Ehi! Guardate che cosa ho! Ho dei sacchetti di giochi da spiaggia! E oggi andremo a giocare nella sabbia! Wow! Wow! Ok! Per prima cosa togliamoci le scarpe! Il motivo per cui mi sto togliendo le scarpe... Wow! È che mi piace tantissimo sentire la sabbia sotto ai piedi! Wow! Ok! Adesso l'altra scarpa! Ok! Lasciamo le scarpe qui... E... Prendiamo i sacchetti... E andiamo in spiaggia! Oh! Sono così emozionato di mostrarvi tutti i miei giochi da spiaggia vi sembra un buon punto io penso di sì ok guardate come dicevo mi piace sentire la sabbia sotto i piedi ok ho un sacchetto due sacchetti e tre sacchetti ok vediamo cosa abbiamo qui nel primo sacchetto abbiamo un giocattolo verde e blu giocheremo con questo fra poco e poi ci sono un sacco di altri giocattoli qui dentro come la pala e questo guardate una barchetta e altri giocattoli coloratissimi ok benissimo vediamo cosa c'è nel secondo sacchetto nel secondo sacchetto c'è un camion ribaltabile questo camion è di colore rosso giallo e arancione ok più tardi lo riempiremo di sabbia in questo modo ma molto di più ok e un sacco di altri giocattoli uno rosso e uno rosa e uno piccino guardate che buffo e una paletta guardate questa paletta arancione ok e nell'ultimo sacchetto sono così emozionato di sapere cosa c'è dentro in questo sacchetto c'è wow un aeroplano wow e un secchiello giallo con una paletta rossa e altri giocattoli ok penso che dovremmo prendere il camion ribaltabile venite con me andiamo ok mettiamo il camion proprio qui e poi ho bisogno di una paletta andiamo oh ok meglio usare questa pala grande o questa pala piccola arancione usiamo quella arancione perché è il colore delle mie bretelle e cravattino andiamo la sabbia fra le dita è una bellissima sensazione venite vicini e guardate qui wow wow le mie mani e i miei piedi che bella sensazione wow ok adesso mettiamo una palata di sabbia nel retro del camion vedete ok contiamo insieme prima lo svuotiamo uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci ancora uno undici sì ecco guardate è pesantissimo wow guardate questo camion ok rovesciamola insieme pronti da questa parte è stato divertentissimo andiamo a prendere altri giocattoli da questa parte ok guardate tutti questi giocattoli vediamo che cos'altro wow guardate questo wow come dicevo prima questo giocattolo è di colore blu e verde ok vediamo oh guardate penso che questo vada in in cima e poi ci versiamo sopra della sabbia andiamo mettiamolo dove prima c'era la paletta ok forse lo vedremo più da vicino dopo ma fatemi prendere la pala grande di prima va bene la pala sì venite da questa parte ok tu vai qui fatemi spazio giocattoli la pala si sta facendo strada questi sono i sacchetti di prima ok raggruppiamo tutto ok grande ora ho la pala ehi perché non scaviamo un po di sabbia guardate qua wow wow volete rivederlo wow ok mettiamone un po' qui e poi potete avvicinarvi per guardare pronti wow wow avete visto girava tanto ancora una volta agitiamo dai puoi farcela abbiamo bisogno di sabbia più asciutta ok proviamo wow wow avete visto girava tanto ora vado a prendere un secchiello lo riempirò con dell'acqua e proveremo di nuovo usando l'acqua guardate siamo arrivati al mare ma non ho il mio costume da bagno quindi mi arrotolo i pantaloni così non si bagnano faccio dei risvolti qui in questo modo e anche da quest'altro lato ok sono pronto a raccogliere un po' d'acqua andiamo wow aspetto un'onda per raccogliere dell'acqua wow wow ne arriva una grande ho preso l'acqua guardate wow vedete non sprechiamola dobbiamo metterla nel giocattolo andiamo ok ora che ho un secchio pieno d'acqua sono curioso di vedere che succede mettendola qui dentro vi ricordate come girava quando ci abbiamo messo la sabbia? già vediamo se quando mettiamo l'acqua che abbiamo preso nell'oceano si mette a girare che ne pensate? vedete bene? si? ok andiamo oh funziona ok sistemiamo questo siete pronti? ok andiamo yeah oh yeah funziona wow è tanto divertente giocare con questi giochi da spiaggia insieme a voi beh se volete vedere altri miei video sapete cosa fare già cercate il mio nome sapete come si scrive il mio nome? esatto facciamo insieme lo spelling pronti? b l i p p i blippi 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 già è il mio nome ottimo lavoro ci vediamo presto ciao ciao qua ac Sara che bella musica! Woohoo! Ehi! Sono io, Blippi! E mi stavo divertendo provando qualche ballo! Guardate qui però! La vedete? Questa qui è una maglietta tie-dye e oggi voi e io faremo una maglietta tie-dye! Wow! È così colorata, vero? Elenchiamo tutti i colori! Sopra c'è il colore blu! Sì! Subito dopo sembra che ci sia il colore rosa o rosso! Un rosso rosato! E poi vediamo il giallo, il colore del sole, poi c'è l'arancione sul fondo! Vedete? Wow! Questa maglietta è davvero alla moda! D'accordo, andiamo a prendere l'occorrente per fare una maglietta tie-dye tutta nostra! Woohoo! Guardate! Abbiamo tutto il materiale e gli elementi che ci servono per fare la nostra maglietta tie-dye! D'accordo, non ci serve perché stiamo per farne una noi! Allora, per primo prendiamo una maglietta bianca! Sì, come questa! E poi prendete i colori colori! Sì! Vediamo! Tintura per tessuti! Questa è tintura per tessuti arancione! Questa qui è rossa! Questa qui è blu! E quest'altra è viola! E quest'altra è gialla! E poi prendiamo degli elastici, quindi leghiamo ben stretta la maglietta, dopo ci spruzziamo la tintura, ma dovete indossare dei guanti! Altrimenti vi macchierete tutte le mani! E questo non va bene! E poi abbiamo una busta per dopo, ora vi mostrerò a cosa serve! E dell'acqua! Ok, dunque, per prima cosa dobbiamo bagnare la maglietta! Fatto! In questo modo la bagniamo per bene! Wow! L'acqua è molto fredda! Ok, strizzate per togliere l'acqua! Wow! Siamo molto forti! Bene! Poi stendiamo la maglietta sul tavolo! Sì! La cosa più divertente del tie-dye è che ci puoi fare tanti disegni diversi! Dipende da come attorcigli la maglietta e da come la stringi e da come ci leghi attorno gli elastici! Allora facciamo... facciamo un vortice! Adoro i vortici! Sì! Facciamo una specie di gelato a vortice! Adoro anche i gelati! Ok, ci siamo! Girate, ruotate per bene... Uh, perfetto! Wow! Sono così impaziente di prendere i colori! Ok, ora ci siamo! Ecco, adesso avete una maglietta arrotolata! Potreste anche arricciarla, ma io l'ho arrotolata a vortice! Poi prendete gli elastici e li legate intorno alla maglietta da una parte e dall'altra! In questo modo, proprio così! Sì! Questa maglietta bianca diventerà molto colorata! Bene! Ci sono due elastici e adesso tre elastici! perfetto! Sarà davvero così bella! Ed ecco che mettiamo qui il quarto elastico! Wow! Contate fino a quattro con me! Pronti? Uno, due, tre, quattro! Ottimo lavoro! Va bene! Ora dobbiamo prendere i nostri colori, ma ricordate! Mettiamo prima i guanti! Ok, ci siamo! Un guanto! Due guanti! Uno, due! D'accordo! Ora vediamo! Abbiamo molti colori! Ho un'idea! Penso che io sceglierò due colori! I miei due colori preferiti! Sapete quali colori sono? Sì! Scommetto di sì! Già! Blu e arancione! Bene! Ecco i due colori! Poi tolgo i tappi e infine possiamo cominciare a schizzare i colori sulla maglietta in qualsiasi modo vogliamo! Spruzzo un po' di blu qui! Salto questo pezzo e spruzzo un po' di blu qui! Un po' di blu anche qui! E un po' di blu qui! Wow! Wow! La maglietta era tutta quanta bianca! Ma adesso di che colore è? Sì! Ci sono due colori! Oh! Il blu e il bianco! Sì! Bene! Mettiamone ancora! Oui! 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 Va bene! Allora l'altro colore come vi ho detto è l'arancione! Quindi spruzziamolo sulle parti bianche per renderle belle arancioni! Ecco fatto! Wow! Stiamo facendo molto bene! Ecco! Perfetto! Wow! Magnifico! Wow! Sembra davvero bella! Vedete? Ora abbiamo il blu e l'arancione! Va bene! Adesso mettiamola giù e ora ci vuole la grande... la grande busta di plastica e ci mettiamo dentro la maglietta! E poi la chiudiamo! Adesso dobbiamo aspettare! Ma dovete tenerla qui dentro per almeno 6 ore! Potete tenerla per più di 24 ore se lo volete! Non c'è problema! Più tempo la tenete nella busta e più intensi! Più intensi e vivaci verranno i colori! Io penso che dovremmo forse aspettare 8 ore! Perciò... Aspettiamo! L'attesa è quasi terminata! Ma pensavo che dovremmo mescolare due colori e vedere che colore si formano! Per prima cosa prendiamo il blu! Wow! Vedete? Wow! Ma è fantastico! Wow! Acqua blu! Poi... ecco... che ne dite del rosso? Spero tanto che non si rovesci perché purtroppo non ho i guanti! bene! Bene! Ora proviamo! Blu e rosso! Wow! Che colore è quello? Ecco! Ho la mia pinza per mescolare! Wow! Sì! Blu e rosso formano il colore viola! Wow! Mettiamoci ancora un po' di rosso! Wow! Ora è color viola scuro! Wow! È divertente! Ok! Beh, io credo che la maglietta sia rimasta lì abbastanza a lungo! Sono passate almeno... sì! Molte ore! Perciò ora vado a portare questa al lavandino! Tolgo tutti gli elastici e poi la risciacquo e dopo vado a metterla nell'asciugatrice! Oh! Aspettate! Mi arrivo subito! Wow! Ma è magnifico! La nostra maglietta è fatta! Wow! D'accordo! Eccola qui! La vedete? Wow! Sì! È blu e arancione! Riuscite a vedere il punto in cui l'ho attorcigliata? Wow! È molto bella! È il momento di provarla! Wow! Come mi sta? È stato fantastico! Io adoro fare magliette tie-dye! Wow! Sì! Wow! Di sicuro adoro le magliette tie-dye! Wow! Magari adesso a casa potete fare la vostra maglietta tie-dye! Non vedo l'ora di vedere le creazioni che farete! D'accordo? Beh, siamo alla fine di questo video! Ma se volete vedere altri miei video, tutto ciò che dovete fare è cercare il mio nome! Volete fare lo spelling del mio nome con me? B-L-I-P-P-I! B-L-I-P-I! Ottimo lavoro! Va bene! Ci vediamo più tardi! Wow! Guardate! Wow! È un grande sacchetto bianco! Chissà cosa c'è dentro? Wow! 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 Tante palline colorate! E qui ne ho un altro! Wow! Wow! Un altro sacchetto bianco! Wow! 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 Guardate! Siete pronti? Siete pronti? Ok! Si parte! Wow! Wow! Woo! Wow! Wow! Altre palline colorate! Wow! Guardate quante sono! Wow! Wow. weeeeeeeee. allora togliamo tutte le palline dal tavolo così adesso siamo tornati a un tavolo bianco impariamo un po' di colori vi va? guardate questo fuoristrada è di colore nero verde viola e un po' di rosso guardate è un'auto della polizia wow ha persino la sirena wow questa auto della polizia è di colore nero bianco rosso e blu wow guardate queste macchine da cantiere wow guardate quante sono tutte e quattro queste macchine da cantiere sono dello stesso colore hanno del nero hanno un colore arancione giallino che noi chiameremo giallo wow 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 questa è una betoniera un camion ribaltabile e questa è una bella ruspa impariamo qualche altro colore questo già è un camion dei rifiuti camion dei rifiuti ehi, mi sono dimenticato di dire il colore del camion dei rifiuti già, è di colore verde lo stesso colore del trattore già, questo è un trattore e il trattore ha le ruote gialle bene, ciao ciao e ultimo però importante già, un camion dei pompieri pompieri questo camion dei pompieri è di colore rosso e ha parti cromate e bianche beh, è stato divertente imparare i colori con voi ehi, guardate dove mi trovo in un negozio di giocattoli wow, quanti ce ne sono penso che dovremmo cercare alcuni giocattoli e imparare i loro colori ad esempio questo wow guardate quante palline colorate c'è il blu il verde rosso giallo e viola wow 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 adoro questo negozio di giocattoli oh qui ci sono dei puzzle oh è uno dei miei preferiti un trattore ed è di colore verde wow 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 un altro trattore ma questo invece è nero wow 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 altri giocattoli come questa rospa che è di colore giallo oh e un escavatore gigante qui sopra mettiamo via questo e prendiamo l'escavatore wow 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 questo escavatore è di colore verde e blu oh e ha le ruote arancioni non le avevo viste ok cos'altro abbiamo qui? un fuoristrada wow questo fuoristrada è di colore giallo mettiamo via questo fuoristrada e cerchiamo altri giocattoli guardate questa questa macchina è di colore blu wow 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 e abbiamo degli animali qua come la mucca che è bianca e nera poi oh un bel cavallo marrone ok wow wow e questo un cane carinissimo ok mettiamo via il cane e continuiamo a visitare questo negozio wow un monster truck davvero enorme wow dove è andato? oh eccolo qui questo monster truck è di colore verde viola nero e c'è anche un po' di rosso wow ok cos'altro abbiamo qui? uh un altro monster truck davvero grande questo monster truck è di colore rosso wow ok penso che abbiamo visto abbastanza giocattoli qui al un momento non possiamo tralasciare questo giocattolo wow 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 arancione ok adesso credo che il giro al negozio sia davvero finito e aspettate un secondo dobbiamo ancora guardare lì dietro oh gli ultimi giocattoli camion ribaltabili già sono di colore giallo wow e un'altra ruspa anche questa è di colore giallo esatto bene tutti questi sono mezzi da cantiere e sono di colore giallo beh a presto ciao blipi blipi come questo è di colore rosa e questo anche questo di colore rosa o sì anche questo questo di colore rosa guardate questa scatola questa scatola è di colore rosa e un peluche che è di colore rosa sono io blippi e oggi saliremo a bordo di questa grande barca è enorme già sono emozionato perché voi e io siamo qui al pier dolphin cruises a st petersburg in florida andremo ad esplorare e a conoscere meglio tante creature marine e magari vedremo qualche delfino ciao ciao evviva dai andiamo siamo saliti a bordo della barca già ed è davvero fantastica perché non è una normale barca questa è una barca grandissima per molte persone si chiama catamarano già guardate quanti posti wow e guardate cosa c'è qui già questo è un retino veramente gigante ma questo non serve a pescare pesci no questo retino è molto importante nel caso vi cada qualcosa fuori bordo potete tirarlo su così non andrà perso ok rimettiamo il retino qui dietro wow guardate un po già è una mega spazzola che sciocchino questo non è uno spazzolino da denti no questo spazzolone è molto adatto per pulire la barca è l'ideale per grattare via lo sporco e magari anche i cirripedi già si usa così pulito splendente già ok rimettiamolo a posto abbiamo pulito abbastanza per oggi wow vediamo che altro c'è wow avete visto guardate qui il soffitto è del mio colore preferito arancione già wow ed è un soffitto davvero molto importante già sono giubbotti di salvataggio guardate wow sì questi giubbotti sono super importanti perché se si finisce in acqua aiutano a galleggiare vi mostro come si indossano ciao poi si prende il gancio così rimane allacciato e potete stare al sicuro già guardate dei berretti da capitano un berretto due berretti wow che ridere wow guardate è il mio amico il capitano cristian e lui è un capitano in corne ossa è meraviglioso ma che fa un capitano esattamente è un lavoro molto importante noi conduciamo la barca controlliamo che tutti siano al sicuro e che tutti si divertano a bordo vai sembra veramente un lavoro bellissimo e magari un giorno da grandi diventerete capitani anche voi già però capitano cristian portare una barca sembra un'impresa un po' complicata ci sono un sacco di pulsanti alleve sì sono parecchi questa ad esempio si chiama manetta forte in pratica se la spingi in su la barca va avanti se la abbassi la barca va indietro ho capito ora proviamo spingiamo la manetta in su sì così la barca va avanti e invece così va indietro ok forte e invece questo è il timone una parte molto importante della barca serve a dirigerla verso destra o verso sinistra vuoi provare sì voglio provare mi metto qui sono quasi pronto per essere un capitano avete visto somiglia molto al volante di un'automobile a parte il fatto che è molto più grande perché è una barca enorme wow e questo che cos'è quella è la bussola ci dice dove il nord il sud l'est e l'ovest e in che direzione vogliamo andare wow è grandioso ti indica tutte le direzioni e anche dove andare e guardate c'è un microfono pronto pronto un grande benvenuto a bordo dal capitano che sciocchino non vedo l'ora di andare a cercare i delfini con voi ma prima penso che voi e io dovremmo conoscere meglio gli animali marini fortuna che qui con me c'è la mia cara amica mckenzie mongai dovete sapere che lei è un vero biologo marino ciao mckenzie che fa di preciso un biologo marino un biologo marino è una persona che studia l'oceano allo scopo di proteggerlo e qual è l'aspetto della tua professione che ti piace di più l'aspetto che mi piace di più del mio lavoro è la possibilità di studiare l'oceano e insegnare agli altri l'importanza di proteggerlo affinché il nostro pianeta possa vivere più a lungo questo mi pare un concetto molto importante noi vogliamo conoscere meglio gli animali dell'oceano e forse mckenzie può aiutarci già allora sembra che qui ci siano delle creature marine che cosa sarebbe questo è un granchio reale ed è il mio animale preferito tra quelli che oggi abbiamo nella vasca tattile wow posso prenderlo ma certo bene ok lo prendo ma con molta delicatezza ciao signor granchio reale wow guardate quante zampe già e quante zampe ha wow e contiamo insieme le zampe del granchio reale una due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci ha dieci zampe wow sono un mucchio di zampe proprio tante sì oh mckenzie guarda sembra che abbia dei cirripedi sul dorso sì hai ragione ha parecchi cirripedi sul dorso e il motivo per cui si trovano sul granchio è che i cirripedi sono dei parassiti e perciò si attaccano agli animali dell'oceano che si muovono più lentamente i granchi reali sono molto lenti quindi si ritrovano ricoperti da tanti cirripedi ma questo è anche un segnale di buona salute perché se i cirripedi si attaccassero ad animali con un'andatura rapida allora vorrebbe dire che quegli animali sono probabilmente molto malati wow quindi se vedete una tartaruga che di solito è veloce e piena di cirripedi forse quella tartaruga è malata e le serve un dottore ok bene è proprio forte mi piace il signor granchio reale adesso ti rimetto nell'acqua ciao ciao wow oh mckenzie credo di sapere che cosa sia questa ehi ciao guarda questa è una della marina esatto guardate quanto è bella ha il dorso di una specie di grigio verdastro e la pancia wow la pancia invece è gialla oh mckenzie wow mi fa il solletico che cosa sono tutti questi tubicini oh quei tubicini si chiamano pedicelli ambulacrali e le servono per muoversi sul fondale marino ha un sacco di graziosi pedicelli ecco guardate wow ok quindi questa stella marina è splendida come il granchio reale adesso la rimetto nella vasca ecco ciao ciao stella marina wow vedo che ci sono anche molte conchiglie wow ce n'è una qui e questa è pesantissima è pesante come una pietra belle ma che conchiglie sono allora questa che pesa come una pietra è una vongola wow però è una vongola e quest'altra cos'è questa invece si chiama melongena corona sono praticamente due specie diverse di molluschi e infatti rientrano in due classificazioni diverse questa è composta da due metà identiche corrispondenti come le vostre mani quindi se le unite formate un guscio bivalve come quello della vongola wow anche questa è bivalve questa non è bivalve questo è un gasteropode non è diviso in due metà identiche corrispondenti wow buono a sapersi bivalve gasteropode e questo sembra che abbia in testa una piccola corona da re re blipi con un fantastico gasteropode che buffo beh sono proprio delle belle conchiglie ma adesso è meglio rimetterle nell'acqua wow mckenzie dai un'occhiata guarda un po questo sembra che viva dentro un guscio di mollusco ma non lo è non è non è una lumacca di mare no esatto infatti questo è un paguro i paguri sono molto diversi dai molluschi perché i molluschi sono sì delle lumache però si costruiscono la propria casa cioè creano la propria conchiglia questi invece prendono in prestito le case altrui ciao signor paguro lui prende in prestito una casa non la costruisce da solo però è carino lo stesso wow mi pare che abbia anche una piccola chela non voglio che mi pizzichi quindi lo rimetto nella vasca ecco ciao ciao signor paguro ciao ciao wow mckenzie guarda questo questo ha una conchiglia gigantesca ma che creatura è si chiama sinistro fulgur perversum posso prenderlo certamente ok ecco qui ciao sinistro fulgur ehi mckenzie anche questo è un mollusco certo anche questo è un mollusco è grande somiglia a quello piccolo di prima ma in più questo questo che cosa sarebbe questo è il suo piede ma viene propriamente detto opercolo ed è interamente costituito di cheratina proprio come le nostre unghie wow un opercolo è veramente un parolone quindi io lo chiamerò solo piede di lumaca sì molte creature marine hanno i piedi come voi e me è pazzesco beh ora rimetto anche lui nell'acqua wow è stato forte conoscere tutti questi diversi abitanti del mare ma mckenzie che cosa sono quelle ecco queste sono spugne noti la differenza tra l'una e l'altra dunque questa qui sembra quasi nuova è di colore giallo e questa invece beh questa sembra una spugna ma un pochino sporca sì è sporca questa l'ho appena trovata arriva direttamente dalla spiaggia vivono proprio qui nella baia di tampa e sono molto preziose per l'ambiente perché possono filtrare centinaia di litri d'acqua ogni giorno e ripuliscono il mare tu riesci a individuare qualcosa di strano su questa spugna wow guardate questa spugna filtra molte impurità presenti nell'acqua ecco c'è un filo blu qui e dello spago e questi sembrano dei fili d'erba wow mckenzie è fantastico che tu l'abbia trovata nell'oceano wow e questa sembra che sia stata pulita no sì esatto raccogliamo le spugne le alleviamo qui da noi in florida e le ripuliamo così si possono usare per farsi la doccia o anche per lavare i piatti o anche per lavare l'auto wow le spugne sono grandiose grazie mille mckenzie wow è stato divertente conoscere tutte queste creature marine e ora è il momento per tutti noi di ammirare i delfini ma dobbiamo essere certi di poterli osservare nel loro habitat naturale perché bisogna essere gentili e rispettosi verso tutti gli abitanti del mare già ok per noi è arrivato il momento di salpare andiamo non sto più nella pelle dall'emozione già andiamo ad aiutare il capitano a mollare gli ormeggi venite ciao capitano cristiano che stai facendo sciogliamo tutte le cime da ormeggio e usciamo verso la baia non vedo l'ora di osservare da vicino qualche delfino e quello cos'è è una vita è fatta in modo che qualunque nodo per quanto stretto possa allentarsi anche con la cima tesa forte basta aprire il nodo così e la cima si sfila dalla vita è stato facile sì questa è la cima di prua la prua è la parte anteriore della barca e questi sono i parabordi che ora ritiriamo all'interno evitano che la barca urti contro la panchina sono piuttosto grande già bel lavoro puoi salire a bordo ok ora il capitano cristiano avvierà i motori e io cercherò di avvistare i delfini e vai A presto! Wow! Abbiamo navigato per tutta la baia e alla fine abbiamo trovato dei delfini! Già! Guardate! Provate a cercarli! Eccolo! Vedete il delfino? Raggiù! Ciao! Ce l'abbiamo fatta! Abbiamo visto i delfini! Guardate! Quelli sembrano amici! Ciao delfini! Wow! È fantastico! Oh! Eccoli! Sono vicini! Ciao! Nuotano sotto la barca! Guardate qui davanti! Già! Questa è una riserva per uccelli marini chiamata Isola degli Uccelli perché nessun altro può andarci! È soltanto per loro! Su quest'isola vivono moltissimi volatili! L'anno scorso più di 1500 uccelli sono nati qui! Wow! Sono proprio tanti! E sono di specie tutte diverse! Proviamo ad avvicinarci un po'! Wow! Guardate quanti sono! Questi qui davanti sono davvero meravigliosi perché hanno un piumaggio splendido e sono di colore bianco! Questi uccelli si chiamano aironi! Amano fare il nido insieme perché così sono al sicuro e perché sono amici! E guardate! Hanno costruito dei piccoli nidi usando rami diversi e ramoscelli per potervi deporre le uova e al momento giusto le uova si schiudono e ne vengono fuori tanti piccoli aironi! Che carini! Wow! Guardate laggiù ci sono anche degli uccelli rosa! Si chiamano spatole rosate! Proviamo a guardare meglio! Già! Si chiamano così perché la loro bocca, anzi becco, ha una forma buffa all'estremità, piatta e tonda come una spatola! Per noi è difficile, ma agli uccelli spatola piace mangiare il loro cibo con quel becco a forma di spatola! Già! E mangiano praticamente di tutto! Insetti, pesci e persino rane! Wow! È stupendo osservarli così da vicino! Ehi! Avete visto? Guardate! Là c'è un airone appena nato! Già! È accuvacciato sotto la sua mamma! Ciao! Quest'isola degli uccelli è straordinaria! Non ci sono solo le spatole rosate e gli aironi, ci sono anche i pellicani! Non mi sembra di averne visti finora, ma tenete gli occhi aperti! Magari ne avvistiamo uno! Già! Ok, continuo a osservare l'isola per vedere se troviamo un pellicano! Quello laggiù è uno dei volatili che vive sull'isola degli uccelli! Si chiama pellicano! I pellicani sono particolari perché quando nascono, quando escono dal loro uovo, sono molto piccoli! Sono come una palla da baseball! E non hanno neanche una piuma, quindi sembrano un po' strani! Ma dopo circa un mese, i pellicani diventano grandi come un pallone da calcio e cominciano a riempirsi di piume! Sono meravigliosi! Guardiamo! Wow! Venite! Ci sono altri uccelli stupendi! Ecco, vedete quello nero laggiù? Quello è un esemplare di aninga! È difficile da dire aninga! Guardate un pellicano! Ciao, signor pellicano! Beh, le aninghe sono stupefacenti perché si tuffano anche in acque molto profonde per catturare il cibo, mangiano i granchi e anche i pesci proprio come i pellicani! La particolarità delle aninghe è che sono davvero molto brave a trattenere il respiro, perciò quando sono sott'acqua possono catturare i granchi e i pesci senza dover respirare! Un vero portento! Invece quella si sta godendo il sole! Ciao, signora aninga! Davvero incredibile! Provo a vedere se scopro qualche altro uccello! Mi sono proprio divertito con voi oggi! Abbiamo conosciuto quegli animali marini? Già! Abbiamo visto delfini, uccelli e tante altre creature che strisciano sul fondo del mare? Già! E abbiamo incontrato persone fantastiche che svolgono dei lavori davvero incredibili, come il capitano o il biologo marino! Wow! È stato proprio divertente! Vedere i delfini dal vivo è stato meraviglioso! Erano così simpatici! Wow! Guardate qui! È l'ora del buon laboratorio! E oggi vogliamo creare un oceano in bottiglia! Wow! Lo vedete? Tante conchiglie, degli animaletti e se lo scuotiamo... Wow! Sembra proprio l'oceano! Ah! E ora possiamo farne uno anche noi! Partiamo da una bottiglia d'acqua e assicuriamoci di togliere tutte le etichette che ci sono all'esterno! Così potremo guardare dentro! Bene! Ora ci serve l'acqua! Perciò adesso prendo una tazza vuota... ...e ci verso l'acqua! Wow! È abbastanza! Comincia già a somigliare all'oceano! Ora vogliamo che sia proprio uguale all'oceano vero! Quindi aggiungiamo un po' di coloranti alimentari blu! Solo una goccia! Una! Magari ne mettiamo un'altra! Direi che così è perfetto! E ora versiamo tutto nella bottiglia! State molto attenti! È un po' difficile! È fatta! Guardate! Tutta l'acqua è nella bottiglia! Siamo a buon punto! E adesso la parte che preferisco! Qui abbiamo delle conchiglie E delle creature marine! Di tutti i tipi! Guardate! Abbiamo una medusa Poi abbiamo... Wow! Un polpo! Che aspetto buffo! Già! E ancora... Qualche granchio! Granchi presi! Già! Mettiamoci anche una tartarughina! Che carina! Ok! Ripeschiamo i nostri animali E aggiungiamo anche qualche conchiglia Perciò scegliamo tutte quelle Che ci sembrano più belle Ne prendiamo una bianca Wow! Guardate questa piccolina È a forma di spirale Ne scelgo ancora qualcuna Ok! Ora prendo le conchiglie E le butto nella bottiglia E adesso... Le creature marine! Tartaruga Polpo Meduso! E... Un piccolo paguro Ciao ciao! Una volta messe tutte Le conchiglie E gli animali nell'acqua Dobbiamo aggiungere... Sapete cosa? Dell'olio Ma prima Mi serve ancora un po' d'acqua Vediamo Versiamola Già! Ora c'è abbastanza acqua Quindi versiamo l'olio Togliamo il tappo Wow! Guardate che roba! L'olio serve a creare tantissime bolle Perché all'acqua e all'olio Non piace mischiarsi Quasi fino all'orlo! Quasi fino all'orlo! Wow! Ottimo lavoro! Sono emozionato! Ok, la prossima cosa da fare È assicurarci di non combinare nessun disastro Vogliamo che sia tutto bello pulito Perciò Ora prendiamo Un po' di questo Nostro adesivo E lo avvolgiamo tutto intorno Al collo della bottiglia In modo che nell'acqua e nell'olio fuoriescano Poi Potete chiedere a un adulto Di tagliarlo Per bene Con le forbici E Ora Ci mettiamo il tappo Come sicurezza in più Lo sigilliamo col nastro Questo è del mio colore preferito E cioè L'arancione Ok Allora Ne prendiamo un pezzo E Ecco Lo attacchiamo intorno Dobbiamo Fare in modo Che né olio Né acqua Escano Niente pasticci Capito? Adesso Premete bene il nastro E avrete Il vostro oceano In bottiglia Wow E la cosa che preferisco È scuotere la bottiglia Wow Avete visto? Sembra che gli animali All'interno della bottiglia Stiano Nuotando veloci Nell'oceano E Le conchiglie Stanno sul fondo Proprio come nella realtà È stato davvero divertente Abbiamo fatto Un oceano in bottiglia Abbiamo visto i delfini dal vivo Abbiamo visitato L'isola degli uccelli E imparato Tantissime cose incredibili Sulle creature del mare Bene Siamo arrivati alla fine del video Ma Se volete vederne degli altri Non dovete fare altro Che cercare il mio nome Ehi Facciamo lo spelling Del mio nome Ok B-L-I-P-P-I Blippi Bravissimi Bene Ci vediamo presto Ciao 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 Wooo!